Editing rapido, questo è difficile. Allora, inizi a cambiare mentalità. Nei miei primi anni avevo molta ansia dovuta appunto alla fretta di dover consegnare tutto e subito. Direi che stavo montando il più velocemente possibile, ma lo ero davvero, probabilmente no. Mi sono reso conto che non avevo uno schema ben preciso per scegliere la clip migliore. Ne sceglievo una, poi dieci, poi venti, senza rendermi conto che alla fine tornavo sempre alla prima scelta. Il mio subconscio sapeva già quale avrei dovuto usare, quindi come può aiutarti tutto questo? Ricorda prima di tutto che è la perfezione nemica del progresso. Allora scegli la prima clip che pensi possa funzionare nel tuo video, quindi prova a sceglierne un'altra. Fidati che il tuo subconscio sa già quale delle due usare. Non stressarti per la messa a punto delle cose, inserisci le clip il più velocemente possibile sulla timeline, almeno nella prima fase dell'editing. È più importante che tu abbia i filmati sulla timeline piuttosto che il filmato sia perfetto già da subito. Rimarrai stupito di quanto più velocemente tu possa editare in questa maniera. Componi velocemente la timeline, poi al dettaglio penserai nella fase successiva. Buon lavoro!